Ciao a tutti, sono Paolo Moscato, sono un allievo del corso di Paolo Zanol, suono la chitarra da un po' di anni e ho piacevolmente seguito il corso sulla Bossa Nuova e le varie dirette e i vari approfondimenti che Paolo sul canale gentilmente ci regala e ci offre. Devo dire che la mia esperienza è stata estremamente bella e positiva. Uno perché un po' io già conoscevo il genere e a partecipare alle sue lezioni, seguire i suoi esercizi mi ha permesso proprio di affinare la tecnica, di dare solidità al ritmo e alla mano destra soprattutto. Non entro nello specifico tecnico però veramente Paolo è uno che ci mette l'anima e conosce il genere a fondo e gli scorre nelle vene. Poi l'ho seguito anche dal vivo in alcuni suoi live ed è veramente una persona estremamente affabile e soprattutto preparata. Metodo infallibile da seguire, lo consiglio. Un abbraccio a tutti, buon lavoro. Grazie a tutti.